La serata inaugurale dell'ormai tradizionale festival d'autunno ha fatto fare ai presenti un tuffo nel passato, al ritmo dei memorabili anni Ottanta, con il concerto di Tony Adley, che si è tenuto nella cornice dell'arena del Teatro Comunale di Soverato. Dopo oltre 40 anni di carriera, Adley è riuscito a mantenere vivo il contatto con il pubblico e ha trasformato il suo concerto in una vera e propria serata tra amici, entusiasti di poter ascoltare nuovamente la sua voce potente e vibrante, che ha emozionato tutti attingendo dal repertorio di brani da sua lista. La serata è stata un susseguirsi di ricordi, da Instinction, Around the Round a Because of You. Il pubblico non ha potuto fare a meno di ballare trasportato dalla nostalgia di tempi passati. Il festival d'autunno però promette di continuare su questa scia per tutti i prossimi appuntamenti, il percorso musicale dal barocco al contemporaneo, il viaggio nella canzone d'autore e la semifinale del talent Next Generation, una serata in cui il festival d'autunno conferma la sua idea di voler valorizzare e promuovere le realtà musicali del territorio calabrese. La visione della show che è la sua vita al momenziere il momento generale e parla avvertir le strano. Grazie a tutti Grazie a tutti